ok buongiorno a tutti brevissima introduzione macchina fotografica telecamerina e via perché perché oggi è una bella giornata di settembre settembre attenzione quindi si c'è il sole il sole è forte ma non al punto da generare quella luce molto calda la giornata ci sembra ottimale per andare a fare un bello shooting day che poi vi presenteremo dico bene e allora andiamo ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.